è arrivato un altro pacco da Irene e io gli avevo promesso che gli facevamo il video prima di aprire il pacco ovviamente grazie Irene, ti dico già grazie adesso qui si mangia, qui si mangia, distrutto in ciordano, profumo di varazze poi ci sono altri biscotti qua, adesso leggiamo il bigliettino di Irene biscotti rigori, amaretti, buon natale, buone feste, un buon anno nuovo, Irene ma che bello, grazie Irene, e qui colloquio con Gesù melicordioso leggi durata 30 giorni adesso io non è che ci vedo non ci vedo, lo leggiamo dopo mio Gesù, io confido totalmente in te tu che sei tutto, Padre e Signore dell'universo sei il Re del Re tu che dicesti al paralitico di camminare al morto di vivere, al leproso di guarire tu che conosci le mie angosce e vedi le mie lacrime sai bene, divino amico come desidero ottenere da te questa grazia fa o divino Gesù che prima che termini questo colloquio che avrò con te per 30 giorni io posso ottenere questa grazia che ti chiedo con molta fede e speranza il mio colloquio con te, divino maestro mi dà coraggio e serenità per vivere solo tra te aspetto con fede e speranza con gratitudine farò stampare queste mille preghiere altri si rivolgeranno a te e imparino a confidare nella tua divina misericordia distribuirò le preghiere nelle chiese per divulgare allora iniziamo già stasera illumina i miei passi così come il sole dell'alba illumina ogni giorno e accogli il nostro colloquio Cristo Gesù io confido in te ed ogni giorno aumenta sempre la mia fede in te Amen Ho fatto fatica un po' a leggere perché non ci vedo più infatti dovrebbero arrivare i miei occhiali nuovi grazie Irene un bacio grazie questo era per te e grazie ciao Irene buone feste buone feste e buon Natale